ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare perché ho fatto degli acquisti su aliexpress ovviamente sono acquisti già fatti due tre quattro cinque settimane fa nel senso che sono arrivati scusate sono arrivati tre settimane fa una cosa è arrivata un mese fa ma siccome sto aspettando altre due cosucce sì altre due cosucce per quanto riguarda la mia postazione mi sono trattenuta nel farlo ma siccome queste cose non stanno più arrivando e io devo un po sistemare la mia postazione perché ne ho proprio bisogno necessito di sistemare questa benedetta postazione e quindi vi faccio vedere il video ora se quando darò il video che alla mia migliore amica che lo monterà arriveranno gli altri due pezzi ve li metterò assieme ovviamente lo vedrete che sono vestita diversa ma se ancora non arrivano li vedrete più online in un altro video perché sicuramente io ci casco sempre sicuramente vedrete altri video di aliexpress allora la prima cosa vi faccio vedere per quanto riguarda il mio tablet il mio tablet il mio ipad perché si è staccata la foderina ovviamente col caldo ha un bel po' che ce l'ho si è staccata la foderina e quindi ho deciso di prenderne un altro e ho preso questo ah c'era il pennino vabbè aspettate non me ne ero proprio accorta e c'era anche in dotazione il pennino vedete questo poche importe e vi faccio vedere proprio la foderina che mi piace molto e così la posso mettere subito allora è con le farfalle questa sicuramente a mia cellina non piacerà assolutamente perché con le farfalle e si apre ed è così ovviamente mi piace tantissimo perché io poi lo giro e lo metto proprio in questa posizione ed è una cosa che mi piace ovviamente c'è il buco per la mela e devo dire che è molto molto bello poi il colore viola sapete che mi piace tantissimo ed è molto bello mi piace ha anche l'elastico per chiuderlo e quindi lo potete portare anche in vari posti mi piace tantissimo ovviamente vi metterò poi giù i link voi ditemi se vi interessa qualcosa e ve li metterò poi sempre per quanto riguarda i telefonini elettronici e tutto ho preso una cover una è quella che ho già sul cellulare che è questa scusate ma ci sono 5 euro questi sono i soldi che porto quando vado da mia mamma una è questa non guardate il push ed è tipo effetto diamantato mi piace molto perché è molto molto rigida e ha questo contorno bianco che ammortizza tantissimo la caduta del cellulare mi è caduta dal divano, non è che dice mi è caduta da quale posto però è molto molto rigida come cover ed è molto molto buona ve la faccio vedere senza il cellulare perché il cellulare mio è così viola e la cover come vedete è tutta tipo sembra un diamante ed è molto molto bella mi piace e poi io siccome volevo subito il push sono andata dai cinesi e mi sono presa questo qui che è tipo simile al dottore quello che fa le diete non so se lo riconoscete lo faccio vedere da vicino questo qui però ovviamente qui è molto più anziano e si muove fa questa faccina qui e poi questa ed è molto molto bella e quindi ho voluto prendere questa cover e poi me ne è piaciuto un'altra e quindi l'ho voluta prendere ed è quella con gli ossetti del cuore ed è molto molto bella ed è questa ovviamente devo vedere come ci sta nel cellulare è sempre di quelle morbide però sono abbastanza rigide per quanto riguarda il cellulare e mi è piaciuto tantissimo perché ha gli orsetti del cuore io li guardavo quando ero piccola quindi mi è fatto molto molto piacere vederli è così trasparente ovviamente che ha il loblo qui e ovviamente ho preso anche il push e per quello l'ho preso proprio con la zampetta tipo dell'orsetto sapete tutti che è questo oggettino qui per diciamo aiutarvi a tenere il cellulare e questa è la zampetta e mi piace tantissimo proprio abbinarlo alla cover ed è molto molto bella allora nel periodo aspettate che li esco qua nel sacchetto così questi li inserisci qua allora nel periodo della quarantena io avevo fatto acquisti perché avevo la ricostruzione unghie per quanto riguarda le mani e quindi la dovevo togliere perché ce l'avevo abbastanza lunghe e tutto niente questo prodotto non arrivava quindi io già l'avevo ordinato e mi è arrivato un paio di settimane fa ne aveva di tempo e ho preso questo questo lo utilizzerò ovviamente per fare i piedi l'ho provato perché volevo vedere come funzionava e tutto e sinceramente di funzionare funziona aspettate non mi ricordo se c'erano le pile mi sto mettendo la punta proprio per farvi vedere che funziona ok e c'era il cavetto che io l'ho lasciato qua allora vi faccio vedere la penna diciamo è attaccata a questo filo questo qui e questo filo è attaccato alla bocca usb io l'ho messa nella presa adesso gli ho messo questo qui che potete utilizzarlo sia per le mani che per i piedi potete farla qualunque cosa si inseriscono girando la rotellina e poi muovendo questa rotellina qui scusate questa rotellina qui che vi faccio vedere si sente il rumore così potete togliere lo smalto diciamo semi permanente se lo avete oppure diciamo fare quello dei piedi a tanti adesso lo spengo a tanti come si dicono a tanti chiodini che sarebbero questi questi qua che vedete questi e poi in dotazione hanno dato anche aspettate che ve li faccio vedere in dotazione hanno dato anche questi qua che sono per togliere proprio il gel nelle mani che sono queste sono davvero ottime io le ho provate perché mi sono fatta la pedicure e quindi ottime quindi se per caso non potete andare dall'estetista oppure volete fare qualcosa a casa sinceramente questa penna così che è piccolina e la potete maneggiare benissimo è ottima come soluzione poi ho visto questo prodotto utilizzato da alcune americane e nell'infobox ho trovato il link di questo prodotto e quindi l'ho voluto prendere ed è un dispositivo che ha il suo cavetto sempre usb ve lo faccio vedere che è questo qui ha questo cavetto per ricaricarlo e tutto e vi faccio vedere questo prodotto allora il prodotto è questo sembra un una specie di rasoio ed è fatto scusate è fatto così e ha questa lama io ancora non l'ho utilizzato infatti è tutto con il cellofan di sopra se riesco a toglierlo ve lo faccio vedere ci riesci perché non ci penso prima a toglierli? aspettate che ci riesca c'è questo cellofan di sopra e questo è diciamo questa là l'ho acceso un collasso ho avvenuto un collasso allora vabbè si è acceso sentite fa una piccola vibrazione voi potete mettere qualsiasi maschera ma scusate mi sono cagata addosso fa una piccola vibrazione che voi mettete la maschera o quello che volete voi e poi lo utilizzate in varie se non mi sbaglio lo potete utilizzare sia dal basso in alto e sia anche laterale e vi toglie proprio anche le più piccole particelle o di sebo o di come si dice tipo di residuo di maschera e tutto mi piace tantissimo perché ho visto veramente svariate recensioni di questo prodotto ovviamente cliccando il rumore si sentirà di meno e poi vedete vi dice anche lifting moisturizing e cleansing quindi lifting per per lisciare per fare un lifting alla pelle poi moisturizer e cleanser con tipo un detergente un sapone e così si spegne quindi toccando il tasto avrete diciamo questa si accende questo dispositivo mi piace tantissimo perché non ha le batterie perché io odio qualsiasi cosa ha le batterie ha il dispositivo ovviamente che si attacca alla bocchetta usb e anche la protezione per quanto riguarda la boccuccia della usb quindi è una cosa che mi piace tantissimo e poi il fatto che ha anche il suo cappuccio da portarlo anche in giro se vi serve lo dovete portare al mare in montagna dove vi pare e quindi è un prodotto che mi è piaciuto tanto ovviamente lo devo provare ma io ho visto veramente vari video prima di acquistarlo proprio per essere sicura che sia un prodotto che fosse diciamo un prodotto valido aspettate allora dopo essermi spaventata cioè mi sono spaventata veramente mi sono spaventata poi un'altra cosa che mi serviva e questo mi serve per fare tipo le instagram story perché devo allontanare assolutamente il telefonino dalla mia faccia se no a voi sembrerà che io ho un nasone grande ma non è così non è così io ho un naso alla francese e automaticamente non posso avvicinare tanto il cellulare se no il naso alla francese non è più francese e quindi ho preso un un braccio che sarebbe questo allora questo è il manico il manubrio diciamo di questo oggettino per fare i selfie si apre così si escono i piedini e potete incastrare o il cellulare o la fotocamera quello che voi preferite anche la parte dove lo potete allargare scusate va bene dove lo potete allargare vedete i dentini ve lo faccio vedere da questo lato i dentini che si aprono e potete mettere il cellulare e tutto e poi si diciamo si allunga in base a quello che volete voi poi ha un piccolo telecomando che sarebbe questo così quando dovete farvi i selfie abbastanza lontani quindi siete abbastanza lontani premete il pulsantino e vi fate il selfie col cellulare o la fotocamera che sia diciamo abbinata al al braccio qui a me piace tantissimo l'ho visto poi la cosa che mi piace è anche il fatto che lo potete utilizzare come treppiedi e farvi selfie o le cose così diciamo sulla vostra scrivania o da qualsiasi altra parte che voi serve e mi piace perché da com'è diciamo diventa grande in pochi in pochi minuti in pochi scatti diventa una cosa piccolissima da mettere in borsa quindi una cosa molto molto utile e mi è piaciuto molto il prezzo non è stato nemmeno alto e quindi è ottimo e abbastanza non è quelle cose di plastica proprio brutte che si rompono subito questo mi sembra un po' più resistente arriviamo ai due prodotti clou di quest'all che sono i quattro che avevo scelto ma sono arrivati due e gli altri due ancora devono arrivare il primo che vi faccio vedere è questo che è il mio preferito questo qui lo scatolino già l'ho buttato perché mi è arrivato un mese fa erano con queste cose in polissirolo ora lo devo lavare di nuovo perché l'avevo disinfettato ma lo devo lavare per mettergli i pennelli e altri prodotti allora il prodotto in questione è questo è un cofanetto per quanto riguarda i pennelli l'ho preso pochissimo vi metterò poi il link da questo lato ovviamente metterò i pennelli io ho già comprato la sabbiolina però quella con le pietre un po' più grosse non la sabbia proprio sabbia perché non mi piace poi che si sporca il pennello nella parte di dentro inserite il vostro pennello che io voglio mettere alcuni pennelli proprio qui nella postazione e poi chiudete e quindi qui avete i vostri pennelli e poi abbiamo tre cassettini questi qua di questa dimensione potete mettere spugnetta o quello che volete e mi piace proprio il fatto che ha tre scompartimenti per quanto riguarda i cassettini e questo per quanto riguarda i pennelli devo dire che mi è piaciuto molto il prezzo non era nemmeno alto quindi è un'ottima occasione e devo dire che mi piace mi piace per come è fatto e tutto non è venuto rovinato ha qualche rigatura però non non è niente di che devo dire che è ottimo come prodotto non vedo l'ora di utilizzarlo e metterlo qui nella postazione perché così ho i pennelli che utilizzo di più perché qui ne metterò alcuni e poi nell'altro ne metterò altri che poi vedrete in un video poi l'altro che ho acquistato è ancora dentro la scatola sono arrivate in queste scatole così di cartone vedete che è abbastanza grande e credevo che fosse più piccolo di questo qui invece molto più grande di questo qui quindi sono rimasta molto molto contenta e il prodotto in questione è questo perché qui voglio mettere altri pennelli sempre per quanto riguarda la postazione quindi sono i pennelli che io utilizzo per me sempre tutte le volte che mi truccherò ed è questo contenitore spero che si veda bene il prodotto in caso vi metterò qualche foto se poi nell'editing vedrò che si vedono male allora vedete la dimensione vi faccio vedere anche la dimensione dell'altro aspettate che lo prendo ed è questo vedete questa è la dimensione vedete che è molto più grande per quanto riguarda i pennelli allora ovviamente è in plexiglass come tutti gli altri contenitori ed è un porta pennelli si apre in questa maniera e si ferma così qui abbiamo dei scomportimenti dove ce n'è uno abbastanza grande come si vede e poi due vedete che c'è un separe qui due più piccoli nella stessa dimensione ovviamente più piccoli questa è la dimensione vedete all'interno ed è molto molto bella anche qui ho comprato sempre la stessa sabbillina perché ovviamente ce ne serviva poca e mi è piaciuto tantissimo il fatto che come diciamo chiusura e tutto era molto particolare non so se prenderne un altro proprio di questo per metterlo sempre qui adesso vedrò come sarà l'esposizione se poi diciamo mi convinco a prendere il gemello lo prenderò perché costano pochissimo e sinceramente mi è arrivato quasi subito questo e questo qui sono arrivati quasi subito quindi ottimo le altre due cose invece ciao core ancora niente comunque mi è piaciuto tantissimo io poi al di sotto metterò i piedini quelli là in vellutino per non rovinare il tavolo e mi piace mi piace tantissimo io con avevo visto vari prezzi varie cose e sinceramente non mi andava di spendere tutti quei soldi ho speso un quarto di quei soldi e quindi ho preso questi due mi piacciono tanto bene per quanto riguarda per quanto riguarda questo video è tutto spero ovviamente che vi sia piaciuto a me sono piaciuti tantissimo specialmente i portapennelli con cioè i due portapennelli mi piacciono tantissimo e quindi ero molto molto contenta nel farveli vedere questo è tutto per quanto riguarda l'express che dirvi io vi saluto e ovviamente aspetto un vostro commento giù nei commenti per proprio per dirmi a me piace questo a me non piace questo cosa serve quest'altro se avete visto che mi sono spaventata scrivetemi qualcosa se anche voi vi siete spaventati niente ragazzi io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va non ci vediamo al prossimo video ciao ciao ahhh A presto